Per me il dono è la possibilità di trasformare in un atto pratico e utile per il prossimo quella che era una passione. Io vengo dall'esperienza dell'assistenza radio, da appassionato di radiocomunicazioni, grazie alla possibilità di fare attività di protezione civile posso donare queste capacità e conoscenze, non più hobbystiche ma ormai professionali, alla comunità e al prossimo. Il dono più bello è sempre la possibilità di fare, quando si fa è sempre un dono. Nel caso specifico voglio ricordare il terremoto del 2009 dell'Aquila, prima mia grande emergenza, all'epoca giovanissimo mi fu dato un indirizzo, prendi, parti e vai, un modo come crescere.